ed eccoci qua ragazzi bentornati nel canale di danx stiamo con lego star wars andiamo a iniziare il sesto episodio ormai stiamo anche per finire questa serie non mancano molti episodi proseguiamo e niente vediamo un po come va a proseguire qualcuno di voi mi ha detto anche se facevo le secondarie ragazzi le secondarie in realtà non le sto facendo perché è molto lungo il gioco so già che in ogni episodio ci sono un botto di secondarie ed è lunghissimo quindi dobbiamo fare tutti e nove gli episodi non la finiamo più escono miliardi di video quindi non mi sembra il caso quindi andiamo direttamente con le principali perché sono comunque nove episodi in ogni episodio ci sono secondarie ma sono tante quindi è molto lungo è molto lungo da quello che so dal punto di vista delle secondarie quindi va bene così poi vedo che non è molto seguita in realtà la serie diciamo che non ha molto senso riempire il canale di questo gioco se non lo state neanche seguendo più di tanto quindi va bene le principali ok però secondarie direi che possiamo anche lasciar stare hai agito bene lord bayern ora sento che vuoi continuare a cercare il giovane skywalker si il mio signore solo insieme possiamo portarlo al lato oscuro della forza certo che sono preoccupato e dovresti esserlo anche tu lando carlissian e il povero ciubecca non hanno fatto ritorno da questo posto orribile non ne sarei sicuro allora siamo con un brodo trovo modo per entrare nel palazzo di jabba va bene vediamo un po' andiamo avanti ripensando ci sono certo che lando e ciubecca sappiano badare a loro stessi forse dovremmo va bene ma non c'era bisogno di metterla sul personale allora dobbiamo andare lì andiamo un po' cosa dobbiamo fare qua mi sa che dovremmo usare mi servono le tue competenze r2 sapevo sapevo vediamo un po' vediamo di alcheraggio allora beh sì sembrerebbe proprio un campanello immagino non abbia altro scopo no più che altro mi dispiace che cioè potevano fare secondo me un pochino più lunghi gli episodi cioè la storia principale perché va bene che sono tutti gli episodi però non lo so magari un po' più lunghetti ma cioè perché durano veramente poco se consideriamo solo la storia principale diciamo così qui è chiaro che hanno aggiunto le secondarie per allungare il gioco però va bene un piano per salare hanno scorta ciubè che attraverso il palazzo di gioco no però c'è da dire come ho già detto in altri video il doppiaggio è spettacolare ragazzi questo è bellissimo cioè il doppiaggio che cacchio spettacolare ragazzi oh cavolo che cacchio ha spuntoni aia ma possiamo passare vabbè lui come passa ce la fa? ah lui trova direttamente mi sa il modo per passare vabbè senza che sei ferito feriti schiavabini andiamo avanti ah perché è lei la questa? non avevo mica letto il nome ok giustamente allora che qui mi sa che servono tutte e due eh lui ce la fa? no dobbiamo usare questo allora aspetta un po' qui non sa cosa fa aspetta ah beh giustamente dobbiamo tirare la leva vai il pont ok ottimo mettiamo qui e qui no? ah ok ci aprono dai penso di vedere se andiamo avanti ah posso andare anche qui? no per te palla di pelo non riusciremo a passare da quella porta finché quelle guardie sono lì vabbè qui serve ciò bello vediamo se no? in realtà si però non mi fa fare niente non lo so vabbè andiamo qui poi vediamo se allora eh ma c'è la sala avresti magari lì sistemiamo sistemiamo perché vedo niente che è successo e adesso vediamo vabbè qui tutti e due dobbiamo ah ok il problema è che non ha fatto una forza però non arriva non arriva a lui come mai ah no non arriva è chiuso ah beh aspetta che cacchio c'è sto coso va uno e due ho sbagliato vai vai andiamo avanti allora qua il dubbio rompiamo tutto perché non so se qua c'è da montare cosa sembra di nuovo si è vero che qui era quell'episodio dove salvavano han vi ricordo guarda qua che roba qua che roba ah eccolo come come fa mu ci sarà modo no? penso di sì usiamo questo eh se magari lo prendiamo perché ok lo metto qui non ci vedo non ci vedo la vista ti tornerà col tempo chi sei? qualcuno che ti ama lei io conosco quella risata java stavo venendo da te per saldare il mio debito ma ho avuto un piccolo imprevisto cagog unisolo java ma bada bada tu tu mi porterai da java subito e tu cacogu java now ah ma siamo con luke andiamo da java mi toccisa java ricorda a tutti che sono un invitato senza importanza e che non dovrebbero fare caso a noi il ponte l'hanno ritornato a sollevare vediamo se posso fare qualcosa eh non lo so guarda a meno che lui non salta ma ne dubito ah no però cade giù qua solleva ma non si vuole abbassare quel cacchio del ponte no eh ma però vedi mi da il tasto B eh mi da il tasto B ah eh vabbè mi pareva strano mi fa mi fa momenti qua che c'è se cerchi di tradirmi babe annoderò il tuo lecco a forma di fiocco fatinga mi lecu aboma fi tre bughi adesso presentami al tuo padrone ti assicurerai che java sappia che io sono un cavaliere jedi in caso non fosse ovvio dalle veste il capitano solo e il wuki da me non è non è non è il rancor ma non è non è non è non è non è non è ma non li faccio niente ma questi voli sono stati no 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 questo è bombo ci vorrà un bel pover per buttarlo giù non li togliamo niente e porca di quella vai dai dai vabbè se ha solo questa barra è fattibile se no ci vorrà un secolo teniamo a dargli colpi occhio l'importante è che lo buttiamo giù no no Oh, no! Questo sarà il tuo ultimo errore! Dove ti hai ricacciato? Avresti dovuto essere su quel galeone! Servirai nella sala VIP? Fa parte del piano? Oh! Questa è fatta! Andiamo avanti! Già una parte di livello l'abbiamo fatta! Se non arriviamola in fretta diventeranno cibo per Sarlacc! Ah sì, qui c'era la bestia nella sala VIP, ha detto il nome, il Sarlacc! Sì, era quello che tra l'altro aveva mangiato a Bobbuffet mi pare, se non ricordo male. Sì, perché poi c'è stata anche la serie lì e tutto, eccolo qua! Vittime del passente Sarlacc! Sua eccellenza si augura che muigliate... Sì, è una parte di livello! Sì, è una parte di livello che mua cibo per la mia vita! Sì, è una parte di livello! No, 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 no... e vediamo un po' vediamo un po' se lo sistemi no 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 ne faccio niente una barra ah no che luca con la spada dove cacchio ha secondo me è meglio con la spada con la pistola dalla distanza e ha un'altra barra eh ma moccate giù eh se lo bagna se lo pappa il sarlacc se lo pappa eh questo lancia il cazzo di missili maledetto dove cacchio è andato ok dove eh basta sti missili i missili sono un problema però ha problemi ha problemi con il propulsore ecco se lo mangio la festa è finita è ora di andare posso no qua non credo che vabbè niente eh sto sparando ai miei cristo santo ah no dov'è che devo andare io ah ok allora aspetta questo mi sa andiamo qua aspetta un po' ok posso salire come saliamo là non ho capito vogliamo un attimo guardare la situazione allora eh ok ho capito che devo fare sta roba ma secondo me lo dobbiamo che cacchio è sta cosa aspetta un po' ma scusi se lo metto qua sta cosa saliamo noi lì ci interessa poco allora qua serve questo r2 va a prendere leia noi pensiamo alle guardie di giamba buona fortuna r2 già baderà è come lo come così random colpi di vediamo che cacchio non mi trovo più questo è un galeone per le feste non un galeone per le professe mostra un po' di rispetto ah no però lì lì è legata vabbè allora niente eh l'androide non è tanto forte però va bene uguale bocca alto bocca alto vai ce l'abbiamo di nuovo qui no 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 questo questo pure il gattino che cazzo è sta cosa il gatto vieni qua maledetto che cazzo è un gatto la scimmia non è del tutto inutile dopo tutto vai vai tanto nos è moda quasi è questo tipo la paura maestro come ti ha messo dai c'è anche questo vai di nuovo il coso il gatto cazzo da coso tanto questo è il più facile rimane inchiodato Jabba proprio se muove potevamo fare anche prima questo vittorio a catena se mangia un po' di gente quel coso forza al santo cielo andiamo e non dimentichiamo i droidi andiamo arrivando ci rivediamo alla flotta andiamo avanti ancora un pochino poi tra poco ci salutiamo devo finire il mio addestramento con il maestro Yoda sei pronto ad andare su Dagoba? allora devo andare lì ok vabbè la mappa possiamo anche fare così direttamente facciamo viaggia ok 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 Spero che il maestro Yoda non sia arrabbiato perché me ne sono andato grazie R2 spero che la pensi allo stesso modo allora che dobbiamo fare qua e termine l'addestramento con Yoda ok qui c'è dello schifo di acqua qualcosa mi dice che posso farlo posso farlo tornato tu sei avvicinati Luke una cosa rimane Vader dovrai affrontare Vader Darth Vader è mio padre tuo padre lui è c'è un altro sky walker Yoda sarà sempre con te Obi-Wan l'altro di cui parlava Leia Leia è mia sorella il tuo intuito ti serve bene andiamo R2 dobbiamo tornare alla flotta esatto R2 non c'è più niente per noi qui andiamo al punto d'incontro questo che uso ah beh sono probabilmente migliori che poi in realtà non lo sto neanche facendo sta roba vabbè andiamo direttamente anche qui con la mappa facciamo viaggio infatti non ce n'è che bisogna di andare a picciare la nave e devo dire che secondo me siamo già a metà di questo episodio veramente corti come ho già detto sembra che ti stia annoiando vieni a imparare cosa muove allora io ti ho lasciato il comando alla home vediamo un po' di questi tanto per ma qui dobbiamo usare questo comunque è buona anche questa cosa che ti indica dove devi andare perché certe zone sono molto dispersive devo dire magari qui no ma ce ne sono altre molto dispersive anche se i sistemi delle armi di questa morte nera non sono ancora funzionanti è comunque protetta da uno scudo di energia generato dalla vicina luna gostosa di Endor il generale Karmissian si è offerto di condurre l'attacco dei caccia buona fortuna in ogni caso non possiamo attaccare la morte nera affinché lo scudo non sarà disattivato la mia squadra è pronta ci sono anch'io come faremo ad arrivare su Endor senza farci scoprire dall'impero nell'hangar ci sono alcune navi cargo imperiali che abbiamo preso in prestito useremo quelle ricevuto andiamo vabbè ragazzi direi che per questo video ci possiamo anche salutare tanto credo che dobbiamo andare a distruggere la morte nera se non ricordo male quindi direi che questo lo vediamo nel prossimo video ma qui si esce si dove cacchio se esce chiuso ma perchè indica chiuso anche qua scusi l'uscita dove cacchio l'avete messo in questo posto andiamo un attimo a vedere la mappa perchè allora passando di qua ma hanno chiuso tutto male ma di brutto pure eh si che poi in realtà possiamo anche fare così eh viaggia però una cosa che volevo capire è dove è l'uscita se volevo andare a pesca passò qua vado qua e poi ok ah di qua ah ok non l'ho proprio visto ceccato male io ragazzi ceccato male io va di brutto vabbè qua facciamo così dai facciamo direttamente il viaggio allora dove dove checchio va ho detto un attimo allora è qua andiamola ad atterrare e dovremmo iniziare qua come Sì Ce ne occuperemo io e Ciube Andiamo Ehi Riprendi, date l'allarme Grandioso, andiamo Va bene, dai ragazzi Questo lo Lo fanno nel prossimo Dai, come sempre Fatemi sapere Comentate con il bidet Questa non si può aprire Mi iscrivetevi alla prossima FB, Twitter, Instagram E noi ci vediamo E le prossime Un saluto a tutti Dalla Dexdrossi89 E noi ci vediamo